Ieri il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato il documento di economia e finanza. All'interno di questo documento ho presentato un emendamento per fare in modo che il Consiglio regionale e la Giunta in maniera particolare possa sollecitare circa la realizzazione di studi di fattibilità per il collegamento ferroviario Roma verso l'Abruzzo, in maniera particolare verso Teramo, verso il capologo di provincia offeso dal terremoto del 2016 e su questo tema ho chiesto un impegno forte da parte del Governatore Marsilio. Il Governatore stesso ha accolto con favore il mio emendamento, tant'è che l'emendamento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale. Io ringrazio sia il Governatore che il Presidente Sospiri che hanno accolto questo emendamento sul quale tutti insieme dobbiamo lavorare, soprattutto con gli enti locali, con i portatori di interesse affinché anche su questa tratta possiamo realizzare uno studio di fattibilità per una comunicazione più incisiva e più attenta all'attuale realtà.